schizzato per terra sei uscito te sei un mio spermatozoa sei il mio sperma sei sei il mio figlio sei il mio spermatozoa allora rega innanzitutto tanti auguri a tutti i bischelletti dark perché oggi è natale e bisogna stare in famiglia oggi vi spiego un po di cose rega allora innanzitutto tanti tanti auguri a tutti i bischelletti dark a dei bravi ma faccio sta diretta poi la cancello perché non voglio dare hype a nessuno purtroppo rega la gente è invidiosa è invidiosa di tutto questo è invidiosa di tutto questo la gente mi lecca il culo per due follower due tre follower perché sei un buffo e non riesci a fare il tuo percorso da solo lo sai che c'è che i numeri parlano i numeri che parlano i numeri che ho sul braccio che parlano in cinque mi stavano sotto casa in cinque nessuno ti ha toccato è ovvio che se mi vieni sotto casa ti sgozzo come un capretto mongoloide scendo e ti sgozzo come un capretto e tu corri e tu corri quindi rega con questo che voglio dirvi che dovete prendere esempio da gente come la dark polo gang da gente come sfera e basta da da gente come tedua da gente come izzy da gente che ha portato il rap la trap in italia da gente come charlie charts da gente come sick look da questi coglioni rega che cercano i follower che prima fanno i cosi amici amici poi vedi poi non trovano follower e se vogliono attacca e fanno i coglioni ti ho fatto scappare down guarda il mio swag natalizio la gente come enzo dong rega gente vera ma sti coglioni che fanno le bifo non lo vedi che c'è il colossale sul collo sono i numeri che parlano rega non prendete esempio da sta gente che dice solo cazzate mi hanno tirato un bicchiere svizzera solo cazzate rega solo cazzate non dite bugie e prendete esempio da questa gente che vi ho detto io rega buon natale a tutti vi voglio bene non prendete esempio da questa gente falsa che dice cazzate rega dice solo bugie bla 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 bla